il neromante un personaggio educativo del web attraverso questo video di oggi vengo a prendere in disamina quindi in analisi il neromante un personaggio presente qua su youtube una presenza ormai più che radicata qua sul tubo che mi ha letteralmente lasciato colpito io ormai lo conosco da un po di tempo poco tempo fa infatti vi ricordo che mi ha dedicato un video in cui mi va a motivare mi va a educare mi va a fornire dei consigli molto validi e quei consigli li ho apprezzati li apprezzo perché sono consigli di un uomo di un personaggio davvero straordinario ecco senza che perderci in chiacchiere inutili questo ragazzo che se non erro è toscano da come ho saputo per via traverse si occupa di fare questi video che nonostante siano semplici possono essere di aiuto perché perché lui va a educare gli altri lui va a migliorarli lui però a tempo stesso se la va a prendere con gli altri in maniera diretta e non supposta se ha qualcosa da dire lo dice pubblicamente non si nasconde dietro un dito anche se però nasconde il suo viso attraverso l'utilizzo di una maschera ecco su di lui tanto ci sarebbe da dire vi posso dire però che appare ripeto sempre con una maschera al volto per non far vedere la sua faccia un po come fa mister flame che va ad occultare sapientemente il suo angelico volto per evitare probabilmente di essere riconosciuto e vi posso dire una cosa ed è questa che ha di suo una grande dialettica è una persona che sa il fatto suo è una persona che direttamente le cose te le dice in faccia non ha paura a esporsi anche se ripeto a questa maschera ma secondo me ce l'ha per far sì che la sua privacy non venga violata e fa più che bene a fare ciò è una scelta corretta e non sbagliata però è anche una scelta che io reputo un po troppo drastica perché è bello anche mostrare il proprio volto sapendo di non star facendo niente di sbagliato ma sapendo che queste nostre parole che andiamo a dire nei video serviranno a chi che sia o per migliorarsi o per auto migliorare o per andare a educarsi ok quindi utilizzare lo strumento del dibattito è utile fondamentale però secondo me potrebbe evitare di tenersi questa maschera qualcuno potrebbe fermarmi stopparmi e dirmi altre andro ma il suo personaggio è come se a mister flame venisse chiesto di togliersi la maschera non si toglierà mai giusto giusto mi sta bene però anche questo può provocare a lunga una sorta di stanchezza in chi va a guardare i suoi video perché magari si crea una certa morbosa curiosità qualcuno potrebbe dirmi beh è una cosa voluta no in questo modo le persone vanno a guardare con molto più interesse con molta più voglia i contenuti di mister flame e del romante quindi questo va de facto di fatto ad aiutare questi youtuber a diventare degli youtuber con le palle cioè diventare degli youtuber che possono anche andare a guadagnare dei bei soldoni dei bei dinderi una bella pecunia come anticamente dicevano i latini ecco tutto questo si va a trasformare di fatto in una chiamiamola situazione in cui abbiamo voglia di vedere questi youtubers da parte di molti altri youtubers perché sono curiosi vorrebbero sapere cosa accade e vorrebbero sapere cosa c'è chi c'è dietro quella determinata maschera e al tempo stesso c'è una sorta di profonda di profondo interesse nel sapere quello che da quelle bocche usciranno fuori a livello di parole ecco io credo che il neromante abbia tanto tutto di guadagnato anche perché se non erro anche al cerbero podcast il neromante è stato esaminato è stato esaminato è stato visto è stato analizzato è stato invitato tanto che ha partecipato in qualche puntata se non erro del cerbero podcast anche lui e ha avuto anche lui un bel successo certo non ha 2000 iscritti ce ne ha 900 e passa però questi 900 e passa sono sicuramente iscritti guadagnati ok e probabilmente questi 900 e passa li ha avuti anche grazie a me a leandro il conoscitore italiano ecco io devo dire grazie comunque a lui perché ripeto mi ha fatto questo video che ha realizzato un po' di tempo fa che ha raggiunto anche più di 2000 visualizzazioni voglio complimentarmi pubblicamente con il neromante fare tante ore di buona vita a lui dirgli di proseguire il suo impegno e andare avanti per la sua strada detto ciò grazie a tutti da leandro mi congetto a voi dicendovi iscrivetevi commentate se volete fare dei video su di me sulla figura del cosciuto italiano fatela pure fatevi pure non vi preoccupate un saluto al prossimo video